Ragazzi per i lobotomizzati la Cercardi scrive questa cazzata, ora vi spiego perché è una cazzata poi eh, ma non so se ci arrivate tutti, quelli che mi seguono sicuramente sì. Nuovo decreto immigrazione, espulsioni per chi dichiara un'età falsa, bene così, ma bene cosa? Ma se non sai neanche da che paese arrivano, come fai a sapere l'età? Cosa gli fai? Il test del DNA che ci costa un casino di soldi? Come fai a sapere? A tutti gli fai il test del DNA? Ma non vi rendete conto che è solo propaganda per prendervi in giro tutti? Bene così cosa? Come fai a sapere che età? Se uno dichiara c'ho 18 anni, come fai a sapere che non gli ha? Se non ha neanche la carta d'identità, non sai neanche da che paese viene, c'ha il troni proprio allo sbaraglio.